Il magnifico Rettore consegna il tocco e dà lettura del diploma di laurea. Grazie. Veduta la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia in data 20 luglio 2022, veduta l'approvazione del Ministero dell'Università della Ricerca in data 28 febbraio 2023, proclamiamo Carlo Ancelotti, dottore magistrale ad honorem in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e gli conferiamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Complimenti. Grazie.